Mollura, bruttissima pezza di trapo Qui Nellis che si occupa della rimessa Va fino in fondo, ha cercato di attaccare il T Qui riparte, fortissimo Qui Nellis Ottimo, rimbalzo, lavoro offensivo Altro, non dire sbagliato Ancora rimbalzo di Pum Accelerato, sembra quasi ci sia il per due In campo Ora di nuovo, Qui Nellis Ora è contro Jackson, prova una trippa in step In questo caso ora Carver attacca l'area Palla che esce di nuovo E sempre Qui Nellis a far partire E sempre palleggio Nellis in penetrazione Facilmente perché praticamente i nostri due I nostri due Ed esce dal Il palleggio lo sbaglio Ed è Ellis che va a schiacciare Non potrebbe accendersi niente Tanto Ellis che è stato veramente un fattore Balla, ora la scarica su Nellis E accelera E troppo Quanto va brutta Ma la persa dagli sticks Nellis è tutto solo 15 per lui 37 complessivi Vescigliani Qui Nellis 5 secondi per costruire qualcosa Qui Nellis Vole arrivare fino a Capolini A Porto Qui Amato cerca qualcosa di troppo Ed è E sale a quota 13 Pozz Ellis Ancora marcato molto aggressivo da Pianegonda Lo batte abbastanza nettamente Bell'Eurostep Molto il confronto Anche no Scegliono di Quarto quarto Conterà molto anche la tensione La palla diventa sempre più pesante Non lo è per Ellis Facendo un po' di fatica Contro le lunghe leve di Vincini Si torna quindi Nuovamente da Ellis Buona difesa di Reati Ancora una volta si infragio Però sul Allo Qui Nellis Da fuori Si ha Il primo passo Dove vi Occhio Nellis Fino il processo Basta però Ancora Nellis Fino in fondo L'arco Noi abbiamo la coce Finelli Lombardi E Martino Si allacciono C'è un conto I ragazzi Non fia comarsi Qui Nellis C'è che il Bolentini Sempre lui Lascia partire Con calma Incora il politanico Il blocco Da parte di Martino Che ha rimesso un po' le cose A posto Garioan Eccolo E a 40 In lungo Ex Brescia Ex Fortitudo Ellis Da un punto di vista Tlic Ellis Arresto tiro Infatti Normalmente In punta Dal britannico Che cerca di alzarsi Giacchetti Un po' le cose Valentini Va da Martino Da fuori Quinelli Ellis Strappa Un vuoro in balzo Fino in fondo Direi che al momento Da anche la differenza Calestra di Aster L'Azzurra Qui Nellis Vediamo se Questa volta Si C'è ferme Parliamo di quella Considerazione Che mi ha fatto Alla fine Del terzo Tinoni Per Ellis Che ha un'autostrada Che percorre Fino alla fine Per la formazione Ospite in attacco Si butta dentro Ellis Ma doveva prendere Per forza Insomma Ballere le mani Ellis Ellis Provano a placare Skins Mi albi Questi primi 5 minuti L'usione vivo Adesso Quine Ellis E Con questo sidestep Per Ellis Guianisi Contro Ellis Arresto e tiro Da due punti Di E Buona la torta Cacane 25 25 Valentini Scarica Su Quine Ellis In punta La sfida Contro Il tiro Lattisata Nel frattempo Quine Ellis Che cerca poi Di andare Per via centrali Lo fa Passiva Da parte Dei giocatori Milanesi Lo sciclo Strepitoso Questo Che va a mettere In modo Il mancino Apare su Quine Ellis Revivo Fuori Per Ellis Tre secondi Bisogna fare in fretta Bisogna mettere La voce